Perfetto, aspetta amico mio, dicevo lei è poeta, questa trasmissione si chiama Il senso della vita, vuole dedicarci un passo? Sono contento, c'è una poesia che si chiama E figlia. Mio padre mi ha rito caupata, la rito che i figli si passano in suono, adesso capisco perché si mi passa, mi pare che mi metto il cuorno, i figli si dormono, non panno sapere se il padre poi si è avvasato, quando ero guaglione, io desideravo questi gesti raffetti a papà, lui condizionato e ha detto il padre, non è riuscito a mi fare, aspettavo che il papà mi veniva a avvasare, quando in notte sono stato scettato, poi quando veneva a fingere a me e non mi poteva abbracciare, teneva paura, così mi scoprivo poi non mi veniva più a dare, i figli si dormono, non panno sapere se il padre poi si è avvasato, mio padre mi ha rito caupata, la rito che i figli si avvasano in suono, però certi detti, sono detti sbagliati, è inutile agire attorno, io sono stato figlio, ma ora sono capato, queste cose mi sono mancate, perciò non aspetto che vanno a dormire, io e i figli mi sono sciatati. Grazie, molto bella, complimenti, grazie per aver condiviso l'allegria e la profondità al senso della vita, Raffaele, Lello, Florio, grazie, grazie immensamente. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.